Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi ben ritrovati sul canale allora oggi finalmente il momento più unico che raro nella storia vi porterò una mia decklist un pochino particolare nel senso diciamo che non siamo proprio sullo standard ma su un formato un po vecchiotto ma andremo a vedere dopo ma prima di tutto vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da magic corner quindi se vi serve prodotto sigilla o carte singole trovate il link del loro store qua sotto in descrizione a ovviamente col codice sconto 2023 cappello avete la possibilità di ottenere il 10 per cento di sconto mentre ovviamente se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Oh! Magic Pokémon Dragon Ball One Piece Forza Will One Piece Digimon anche trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione scrivetemi e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo io partirei con la decklist allora ragazzi da come vi ho anticipato prima ovviamente non stiamo parlando del formato attuale ma del formato GOT e più nello specifico questo mazzo è il warrior sì volevo spendere poco perché non mi andava di comprare le metamorfosi e la roba di extra anche se comunque attualmente ho tutto e una piccola serie sulle decklist GOT potrebbe arrivare ve la butto lì cazzata a parte ho scelto questo mazzo perché a mio parere risulta il più performante all'interno di quello che è il metagotto poi ci sono pareri contrastanti non è questo il mazzo più forte ma posso dire la mia diciamo che lo ritengo molto valido e funzionale in ogni situazione diciamo contro barn è un po darsi una coltellata però diciamo che con tutto il resto funziona abbastanza bene diciamo che roba come chaos o GOT li faccio saltare praticamente per aria ma vabbè adesso vediamo la decklist e vi spiego il perché di alcune scelte praticamente questo mazzo segue tutto quello che è sbagliato per me nel senso come mostri abbiamo tre cavallero de hoia sì è per questo che è tutto sbagliato diciamo che le lingue di questo mazzo sono tutte tranne che italiane soprattutto la roba foil ovviamente questo è il guerriero più forte del mazzo perché praticamente i mostri in difesa che distrugge non gli fa partire l'effetto scoperta in più diventa un 2000 quando abbiamo una o nessuna carta in mano sì confermo poi ovviamente questo non è warrior però fai buchi per terra soprattutto contro contro chaos soprattutto perché vabbè banna due dal cimitero e quando sta in campo l'avversario non può bannare carte quindi roba come bo bls o sorcio non entrano neanche se l'avversario piange in ginocchio passiamo adesso alle due carte più belle del mazzo che sono samurai sasuke tutto distrutto che praticamente vabbè se c'è un mostro in difesa lo sfonda quindi spia in difesa ops salta per aria e la carta di cui io non posso fare a meno me la sergio sempre e praticamente ci vinco le partite parte che è ultimate ed è spettacolare è pur ma sticato sto cosino di merda da 900 quando attacco un mostro coperto in difesa lo spacca e non subisco danni durante il calcolo dei danni quindi è bellissimo roba come tutte quelle merde settate di giare di che cazzo c'è di spia di merdate varie non partono non partono e io godo un botto per vedere l'avversario incazzasse poi abbiamo della roba staple che vabbè abbiamo breaker come incantatore ma vabbè spacca le settate fai l'effetto in prio e vabbè poi abbiamo virus infetta tribù conami è ora che me la reprinti nel senso io non posso giocare a questo schifo e da mfc non mi va di recuperarla perché è super e costa tipo 30 euro mi serve per la collezione non la giocherei poi abbiamo vabbè sanghan beh penso ci sia niente da dire forse esiliata star foil tanto per la riccanza dd warrior che non uso quell'altra perché non mi piace più più carina lei e poi nel senso attacco banno fortissima poi don zalong che ci meno uno alloppo ogni turno praticamente lui e lui contro caos avete praticamente vinto poi vabbè se ci avete pure lui in campo penso sia gg e infine visto che ci sono sia i dark che l'highlight ci tiri un bel bls a partita inoltrata e ribalti praticamente qualsiasi cosa passiamo alle magie ma non credo ci sia niente di incredibile abbiamo due rota nella lingua degli dei poi doppio nobleman tifone in tedesco e tempesta in tedesco due tipi in tedesco giara in inglese carità strappa possesso e sepoltura nel senso le ritengo tutte abbastanza staple non toglierei niente cioè è tutta roba nel pratico fortissima e non me ne priverei passando invece al reparto delle trappole abbiamo tre trap da shot fortissime praticamente tolgo le carte forti in mano all'avversario e va bene così considerate che il loto rosso quello che hanno limitato la banner scorso quella prima è praticamente la versione scarsa di lei sta uno praticamente questo è il power up di quell'altra poi abbiamo tre giudizi solenni vabbè con questo blocchi qualsiasi cosa tre armatura per leva roba che può dare problemi tipo mostri grossi anche un bls un sorcio quando attaccano sai un bls è tipo un 3000 oppure fate in mirror c'è il don zalong roba del genere farti fare un meno uno così a buffo non piace a nessuno poi ring che dovrebbe avere l'errata questo ma vabbè poi un tornado per spacca le sette poi nel senso per poter settare una dalla mano poi abbiamo spill game craft e un tributo torrenziale con un nome abbastanza discutibile ma vabbè passando adesso alla side vi dico la mia è molto generica potete tranquillamente cambiarla diciamo sono degli esempi su quello che potreste giocare io gioco xin zenhu che porterei a 3 più che altro contro mazzi stan e diciamo il formato gli ha immaginatevi di partire adesso non dovete per forza giocare contro barn però se partite voi e ci avete già questa dopo nel turno dell'avversario quando vi setterà voi gliela girate gliene bloccate due piange è come beccarsi un due di meno ma fa più male poi abbiamo doppio schiacciare più che altro per levare roba grossa in difesa tipo le spie o il carna grande scudo esempio stavo valutando di giocarlo di main quello però è una cosa che terrà in considerazione poi abbiamo zombira così a caso è un 2100 forte ci ho perso una partita per colpa sua perché non sapevo tutto l'effetto poi abbiamo il secondo sasuke il secondo spadaccino preferisco centomila volte lui però nel senso anche lui ce l'ho messo così per poi i preta asura per roba coi capri doppio chirone nel caso per mazzi che hanno una marea de set poi doppio tigre wangu grossissima questa per leva roba piccola sotto 1400 e poi boh un doppio soldato cinetico nel caso boh tipo beccassi warrior in mirror roba del genere vi dico come decklist worka molto bene quindi nel caso testate la cappello di paglia approved probabilmente porterò questa al prossimo evento gotto e vediamo poi vi farò sapere come va vi dico 90 per cento l'unica cosa che sistemerei un attimo alla side e quel garna grande scudo è da valutare ma vabbè dettagli tanto vabbè ci sarà sempre tempo per fare un aggiornamento detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo lunedì sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao